Rina alla fattoria Rina la volpe era molto birichina. Nonostante vivesse in una tana piccola e calda in mezzo al bosco, era sempre nella fattoria. Quando davano il cibo alle galline, essa correva nell'aia e mangiava il loro grano turco prima che potessero prenderne una beccata. E succedeva sempre un grande trambusto. Qualche volta, Rina trovava un uovo nel pollaio e allora saliva con la scala sul pagliaio e lo nascondeva. Se Tristano il bassotto faceva il pisolino del pomeriggio all'ombra dell'albero, Rina di soppiatto gli tirava forte la coda. Milli la mucca correva sempre dall'altra parte del campo quando udiva Rina a fischiettare sul sentiero. Un giorno d'estate, Rina stava pensando di avvicinarsi alla dispensa dove erano conservati la panna e il burro. Quando, tic, una grossa goccia di pioggia le cadde sul naso e, tic, un'altra, e tic, 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 il cielo era nero e il vento portava via i cammini dai tetti e Rina la volpe era trascinata per l'aio. Aiuto! Aiuto! gridava Rina, ma le galline avevano chiuso la porta del loro pollaio. Salvami! Salvami! piangeva, ma Tristano il cane era nel suo canile e non apriva. Arrigo il cavallo, che era sempre pronto ad aiutare, era così spaventato dal temporale che si ritirò nella sua stalla e non sentì Rina gridare. Quando il temporale finì, gli animali vennero fuori e trovarono una Rina che giaceva in mezzo all'aia. Povera Rina! Dissero. La sollevarono e la portarono nella fattoria, dove presto si rianimò con del latte caldo. Quella volta, Rina promise di non prendere mai più in giro gli amici della fattoria. Grazie a tutti!